Dopo la strage di Strasburgo, giro di vite anche sulla città del Natale. L'appello è stato alla massima attenzione, anche se di fatto tutto resterà pressoché invariato rispetto all'ultimo fine settimana, che comunque aveva visto un centro storico sbarrato con misure di sicurezza già particolarmente stringenti, come previsto dal decreto Minniti. L'unica novità è quella relativa al collegamento diretto tra il centro affari e convegni e il centro storico, che non ci sarà più. Resta invece attiva la navetta dai parcheggi Mecenate e Baldaccio a Piazza Guido Monaco. Così si è concluso il vertice convocato per questa mattina dal questore di Arezzo Bruno Failla, al quale hanno preso parte, oltre alle forze dell'ordine, anche i rappresentanti della fondazione Intura e la Confcommercio. L'appello lanciato dal questore è stato quello di tenere gli occhi aperti e guidare così gli Stuart presenti a vigilare e in caso allertare chi di dovere a fronte di qualsiasi sospetto. L'amministrazione comunale ha poi deciso di replicare le modifiche alla circolazione che hanno interessato lo scorso fine settimana alla città murata, quindi stop al traffico dalle 15.30 alle 20 di sabato 15, dalle 10 alle 13, dalle 15.30 alle 19 di domenica 16 dicembre. Intanto si preannuncia già un fine settimana da ricordare dal punto di vista delle presenze attese in città, migliaia di visitatori e il tutto esaurito nelle strutture ricettive. Da giovedì riaprono le casette di legno e la grande baita in Piazza Grande, mentre sabato 15 dicembre torneranno a disposizione dei più piccoli la casa di Babbo Natale nel Palazzo di Fratea Penita e il villaggio Leggo al Prato.